Bilancio di previsione 2022-2024, il provvedimento all'esame delle commissioni consigliari. La regione affronta la crisi termale di Acqui. Endometriosi, una malattia sociale per 300.000 donne piemontesi. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati in primo piano il bilancio di previsione 2022-2024 all'esame delle commissioni consigliari, ognuna per i propri ambiti di competenza. Non c'è rischio di commissariamento per la sanità piemontese. Nonostante le difficoltà del 2021, secondo anno segnato dalla pandemia e dal suo impatto, il conto economico della sanità piemontese risulta in equilibrio, con un valore complessivo della spesa di circa 9,5 miliardi di euro, grazie al grande sforzo messo in atto dalla regione con il supporto di tutte le aziende sanitarie del territorio. Lo ha dichiarato l'assessore alla sanità Luigi Icardi in Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, che ha dato, a maggioranza, parere consultivo favorevole sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Sulla base dei dati rilevati al quarto trimestre, ha spiegato l'assessore, a fronte di una spesa aggiuntiva di 476,4 milioni di euro, il servizio sanitario regionale risulta in equilibrio con un attivo di 24,8 milioni di euro, frutto di una compensazione realizzata principalmente con risorse regionali. In Commissione Sanità hanno relazionato, per i propri ambiti di competenza, anche gli assessori alle pari opportunità Chiara Caucino e alle politiche sociali Maurizio Marrone. Parere favorevole a maggioranza al bilancio di previsione 2022-2024 anche in sesta commissione, dove l'assessore Elena Chiorino ha illustrato le voci relative alle materie di sua competenza. Nel 2022 all'istruzione sono destinati 48,4 milioni di euro. Nella ripartizione dei fondi regionali, 4,5 milioni vanno al trasporto scolastico, 6,8 milioni per il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie, oltre 11 i milioni per i voucher scuola, di cui 7 per trasporto, libri e ampliamento dell'offerta formativa e 4,3 per iscrizione e frequenza. Sempre in sesta, l'assessore Maurizio Marrone ha illustrato i capitoli di bilancio sulla cooperazione e la solidarietà internazionale, a cui andranno oltre 700 mila euro. In questo bilancio e per i prossimi dieci anni abbiamo previsto distanziare 15 milioni di euro per un totale quindi di 150 sul trasporto ferroviario in forza del nuovo contratto di servizio con Trenitalia. Sono risorse che in passato non erano previste. Lo ha annunciato l'assessore ai trasporti, Marco Gabusi, in seconda commissione presieduta da Mauro Fava, riunita per il parere consultivo sul bilancio 2022-2024. È prevista anche la sostituzione di 30 treni. La regione punta anche sulle fonti energetiche rinnovabili, la riduzione dei consumi, il potenziamento della sostenibilità delle infrastrutture energetiche e la promozione della green economy. È quanto emerso dall'intervento dell'assessore all'ambiente Matteo Marnati in terza commissione presieduta da Claudio Leone, riunita anch'essa per discutere il bilancio di previsione 2022-2024. Per le fonti energetiche l'assessorato dispone di 2,3 milioni di euro per il 2022 e prevede un leggero aumento per il bienio successivo. Sempre sul DDL bilancio è intervenuto anche il vicepresidente della giunta regionale Fabio Carosso che ha sottolineato che non ci sono riduzioni sulle politiche per la montagna e le foreste. E ora ci occupiamo della crisi termale di Acqui che la regione sta affrontando. La crisi che sta attraversando il termalismo di Acquiterme in provincia di Alessandria è stata oggetto dell'esame della terza commissione presieduta da Claudio Leone. L'assessore al turismo Vittoria Poggio, dopo la specifica richiesta di Domenico Ravetti, Partito Democratico, ha svolto l'informativa su una difficile situazione che vede al centro 25 lavoratori delle terme SPA per i quali è stata avviata la procedura di licenziamento. L'assessore ha comunicato che venerdì scorso, su iniziativa del prefetto di Alessandria, Francesco Zito, si è svolto un primo incontro tra la proprietà e le istituzioni, in primo luogo la regione Piemonte. Se da parte della regione c'è tutta la disponibilità ad aiutare e sostenere le terme di Acqui, da parte della proprietà ci dovrà essere la volontà di continuare a investire, comunicando l'eventuale piano industriale di rilancio, ha sottolineato Poggio. La regione vuole tutelare l'attività termale, ha poi ribadito l'assessore, operando su due direttive, il turismo e la sanità, ipotizzando l'utilizzo delle strutture termali acquesi, anche per affrontare la riabilitazione dei pazienti che sono stati afflitti dal Covid e che soffrono di patologie collaterali. Nel corso del dibattito sono intervenuti il capogruppo di Lega, Movimento 5 Stelle e Liberi Uguali Verdi, Alberto Preioni, Shunsacco e Marco Grimaldi. Si è celebrata il 28 marzo la prima giornata regionale sull'endometriosi, una patologia che colpisce 300.000 donne piemontesi. Una malattia che colpisce le donne, spesso nascosta, diventando un problema sociale. Sono 300.000 le cittadine colpite in Piemonte dall'endometriosi, una patologia che affligge il 10-15% delle donne in età riproduttiva, il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. I casi conclamati in Italia sono almeno 3 milioni, con un picco di età che va dai 25 ai 45 anni. Questi i dati emersi nel corso dell'incontro organizzato dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte in occasione della prima giornata regionale per la lotta all'endometriosi, che si è celebrata il 28 marzo in contemporanea con la giornata mondiale nazionale. Obiettivo dell'incontro non solo sensibilizzare e aumentare la conoscenza della malattia, ma anche presentare gli aspetti legislativi innovativi introdotti dalla legge regionale rispetto al nuovo percorso di diagnosi, terapia e assistenza. Abbiamo voluto modificare come Consiglio regionale, premio in commissione col Presidente Stecco e poi in Aula, modificare la legge sull'endometriosi, una legge che aveva la necessità di migliorarsi per dare la possibilità a tutti di conoscere una malattia, che è una malattia sanitaria ma anche sociale. Merito della legge regionale, che modifica e integra la legge regionale 10-2017, aver aggiornato la composizione e il funzionamento dell'osservatorio regionale, aver previsto l'istituzione del registro regionale elettronico dell'endometriosi e del centro di riferimento regionale, che si occuperà di pianificare le attività formative di aggiornamento per il personale sociosanitario di strutture ospedaliere e consultori. Fino a una su dieci delle donne piemontesi potrebbe essere affetto da endometriosi. Endometriosi ha forme da leggere e ha forme gravi e queste possono determinare anche delle problematiche di salute molto impegnative per la persona. È stata l'occasione anche l'approvazione della legge per ricordare che abbiamo altri campi aperti, come per esempio il tema della vulvodinia, su cui abbiamo presentato un ordine del giorno collegato alla legge, e il tema della fibromialgia, che comunque stiamo seguendo da anni, e su cui ci auguriamo che presto si arrivi a una definizione anche nei lea nazionali. Al via il progetto, il Consiglio regionale ci dà credito, rivolto agli studenti e alle studentesse piemontesi. Nell'anno europeo dei giovani, i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, resi obbligatori dal decreto ministeriale MIUR per tutti gli studenti del terzo e quarto anno della scuola secondaria di secondo grado, si potranno ottenere tramite il Consiglio regionale. E quanto prevede il progetto, il Consiglio regionale ci dà credito, ideato e realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in occasione dell'avvio dell'anno europeo dei giovani. Obiettivo principale dell'attività formativa è quello di coinvolgere le nuove generazioni nei processi di consultazione chiave a livello europeo, nazionale e locale, attraverso un percorso formativo di 50 ore dedicato alla transizione verde e digitale e alla cittadinanza attiva, settori strategici dell'Unione europea. Il percorso formativo sarà suddiviso in una serie di attività di apprendimento, lavoro di gruppo ed elaborazione formale della proposta da presentare al Consiglio regionale. Le idee ritenute più innovative e realizzabili verranno premiate con un viaggio didattico che avrà come destinazione una delle città simbolo delle diverse aree tematiche di formazione, per la cittadinanza attiva Strasburgo, per la transizione verde Grenoble Green City 2022 e per la transizione digitale una delle città delle Silicon Valley europee, Amsterdam, Berlino, Londra. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!